Dopo una settimana davvero dura, oggi l'ultima fatica? Ma sì, è stata una settimana dura, però comunque la condizione è molto molto buona e quindi quando si ha la condizione si fatica di conseguenza di meno e quindi mi stavo proprio divertendo e oggi l'ultima tappa, la cronometro, cercherò di difendermi al meglio. Rilancia anche domani? Sì, ma mi piacerebbe fare qualche altra tappa per dire i tiri ancora un po', però finisce oggi dai. Comunque la gamba è buona, quali sono poi gli obiettivi della tua primavera? Sicuramente l'obiettivo primario è il Giro d'Italia e la prossima corsa sarà il Tour of the Alps e tra qualche giorno andrò in altura sul Teide per preparare bene l'appuntamento. Grazie, un buon carlù.